e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono mister mario ci siamo tornati su piante contro zombie non è bene partiamo bene eravamo arrivati a livello 3 2 no sbagliato questi li abbiamo giocati nella scorsa puntata praticamente eravamo arrivati che ne dici di acquistare una slot per un sacchetto di semi in più ma certo ti costerà 5 mila monete semi per livello invece di 7 ma certo benissimo perché in inglese benissimo si dice vede ok no 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 ma seriamente c'è ragazzi siamo a livello 2 e c'è già col tizio brutto che non mi piace vabbè allora partiamo l'infea zucca questo 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 anzi no scelgo questo 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 vabbè possiamo cominciare come la smette sono due orde vero ci sono due orde ci sono due orde ragazzi non so se ci sono due orde non si ci sono due orde bene abbiamo il tempo di organizzarci bene amico mi dispiace per la tua prematura rifine cioè la tua riprematura rifine e addio per sempre stavolta veramente perché moro in seriamente 3 2 1 let's go un altro giro solo in arrivo cioè giro solo spara semi in arrivo grazie per la sua non mi vengono le parole ragazzi sto improvvisando e ne sto impazzendo d'accordo dove sarà il prossimo zombie è qui che mente geniale sbagliare il posto è mario e vabbè poi gesù c'è il tizio ve lo ricordate il tizio della notte ecco è censurato da me ok ora mi serve seriamente un compagno per questo povero cristiano addio non correre non correre madonna quanto è arrabbiato era un giornale vecchio 30 anni il tizio tenoso molto pure col giornale quindi mi sa che ci era affezionato vabbè comunque chi se ne frega ormai è morto non piantiamo piante a caso dove sarà il prossimo zombie bernoccolato da nessuna parte però mi metto questo così mi gira vabbè poi ok 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 è arrivato il momento di agire agire allora riusci agisci fai quello che devi fare e poi ti pago lo stipendio ok salvami e poi ti pago lo stipendio bravo bravo salte in casa cosa fare e vabbè poi sentatemi gesù poi c'è vabbè cioè robe ragazzi c'è pure quello scensurato da me ma come si fa? è impossibile diventare questo gioco vabbè che dovevo aspettare ma visto che stiamo avvanciando tantissimo in pochissime puntate vabbè basta di concentrarci ragazzi siamo a 5 minuti e non abbiamo fatto mezzo livello neanche metti le lippe bravo scusate per i timpani ok questo è quello che fa una gippa l'avete capito da adesso ok e vabbè tutti lì c'è la fila ok ragazzi siamo in serio pericolo in questo momento perché ho solo messo i sparassimi del cavo ok ok devo iniziare a mettere i tizi blu che si distinguono adesso se le altre piante dai giurasoli non vi pago per star lì a prendere il sole queste scuse muovetevi qua temi ecco è più bravo il sole di voi è più bravo il sole ma solo io non faccio la riguole vabbè nooo ho sbagliato a metterlo se solo l'avessi stavo scherzando l'ho messo bene non preoccupatevi tutto posto vabbè comunque inizio a mettere questo perché lì ci sarà il nostro nuovo figlio oddio che spazzino che c'è oh non voglio guardare è meglio centrato con la mia faccia ok allora mi prendo il giusto comunque mi sono e vabbè ma tutti per uno ma non è giusto cioè io lo metto sopra e quello se ne va in un posto vabbè dicevo ragazzi mi sono accorto che cavolo muovetevi mi sono accorto che adesso c'è uno spazio in più quello dove sta correndo il nostro zombie corridore come si chiama quello no guardate la sorpresa e guardate il tuo asma lo so ma vabbè cioè ma questo dovrebbe abulirlo questo gioco c'è ma dai ne uccido ahhh è arrivato quello ooooh dio santo è arrivato quello che corre è arrivato quello che corre dove la ciocca quando serve chi è santo mangia di questo ma quanto veloce oddio mi sto spaventando mi ero venuto anche un attacco di panico come sempre surprise non vorrei essere nei suoi bagni adesso anche perché sono sfidati oh non spuntate ma perché c'ho dei zombie sotto la piscina ah non pulisco mai sporcaccione di Mario questo è Mario nooo scusate e vabbè poi cosa volete d'altro cioè vabbè impossibile tadaaa oh un 2 al prezzo di 1 è questo quello che si paga quando si gioca contro di me un momento di un giro questo ma donna stavo vedendo quello muoviti muoviti muovetevi mi stavo vedendo il patatotto ah vabbè ecco questo vi parlavo di questo io di questo praticamente con sta pianta ci facciamolo a chi vede vabbè lo voglio fare subito voglio vedere cosa succede oddio adesso ci sono i subnautici allora ancora non possiamo ragazzi ancora non possiamo perché ci sono i subnautici come si chiamano quelli vabbè allora prendiamo tac 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 e tac 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 e tac a ripensarci però tac ok iniziamo ragazzi la seconda e l'ultima partita di questa puntata ragazzi preferivo una notte veramente mi sono abituato perché si si piantava più veloce con quel cosa da zero eh manco il tempo di partire che ti fa piantare per sconfiggere questi tizzi perché non puoi fare alla walking dead e gli dai una mazzata in testa e col io sto del 109 madonna manco il tempo di ucciderne uno che già ne appare un altro cioè non è che sono super nani un attimo solo cioè voi mi capite vero ragazzi dopo questo video caricherò un altro video che darà inizio ad una nuova serie cosa sarà non ve lo dico ragazzi stavolta non vi spoilerò perché non sono così cattivo da spoilerarvi tra serie di fila ve ne spoilerò solo due no scusate l'ho detto nella scorsa puntata le due nuove serie di minecraft e muori male muori male c'è io sento guarda di qualcosa il fucile a camemose ok va meglio così sono più tranquillizzata donna dov'è il mio fucile lo senti in fucile ma perché guarda come ti cido e vabbè cos'è mi mandano l'esercito qua cioè quanti sono tutti nella stessa posizione poi ma io ancora in acqua non ci ho messo nessuno non me ne ero accorto un sole datemi un sole datemi datemi Gesù si vabbè poi cosa mi date Gesù sta arrivando quello sta arrivando quello sta arrivando un altro sole un altro sole ma mi basta anche questo sapete mi accontento mi accontento vedere le persone schiacciate nel fondo piscine vabbè a parte gli scherzi veramente mi sta stancando è molto impegnativo il mondo 3 e vabbè poi Gesù c'è cosa guarda quello guarda quello è ancora un'altra volta è di nuovo lì dai datemi dei soli mi metto un altro fratellino però datemi dei soli cioè ragazzi non siamo neanche a metà del livello proprio svenire veramente cioè ragazzi ho fatto letteralmente schifo in questa prima parte è un obbrio ma ragazzi ancora i tizi non arrivano non si fanno vedere per soltuna ma perché non fanno soli io non vi pago per abbronzarvi oh siete già negri di vostro stai qua e vabbè e vabbè cos'è questo super super saiyan è il mangiatore di tizi sì vabbè questo c'è qualcos'altro tipo questo da così a così in un momento solo per liberarvi dei vostri nemici c'è lui fa tutto da solo ricordate un altro datemi un altro sta arrivando quel tizio brutto ok 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 va molto meglio così però con tre soli non si può sopravvivere raga è impossibile e vabbè poi no dai raga è proprio difficile è proprio difficile dammi qualcosa ho fatto questo ok ce l'abbiamo fatta poi ricordate però ce l'abbiamo fatta vabbè adesso inizio a mettermi i girasoli così da difendere una base per 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 uccidere gli zombie subnautici no subnautici non mi ricordo come si dice mi spoiler un'altra cosa brutta mi sa che dal prossimo livello ci sarà lo zombie col delfino che è tipo lo zombie atleta solo in acqua zombie atleta versione acquatica io odio mondo ok vabbè ora che abbiamo molti più girasoli possiamo fare molti più soli se facciamo molti più soli pianto molte più piante e magari qualche girasole ecco questo era l'ultimo girasole ora faccio una cosa intelligente metto questo dai fatemi arrivare a 200 tu mi metti ecco braz 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 di cuore a tutti ecco è morto il brutto cattivo è morto però io sono tranquillo cioè cosa potrebbe tubarmi a questo punto della partita quelli che escono da sotto acqua da sotto acqua non da sotto acqua che bel italiano questo mi ha detto ben italiano nooo vi prego nooo un altro un altro ok ok ora questo è lo schieramento il mio nuovo schieramento oh no dai ma così impossibile però guardate adesso cosa mi faccio fare la vostra brutta fine deve essere questa questa è sparta sì ho vinto non sa bene sì che ho vinto se arrivo a 200 ristabilisco più no 150 vabbè ora abbiamo l'abisso che non mi ricordo come si chiama l'aliga kombu è una pianta acquatica che trascina uno zombie sott'acqua e poi non risale ve lo dico vabbè ragazzi se il video io ho detto che per stare con il culo venire qui se il video vi piace piaciuto se il video vi piace qua sotto commentate iscrivete e noi ci vediamo i miei prossimo video ciao ragazzi